La questione del Covid, diciamo, da un certo punto di vista, per noi non ha creato grossi problemi perché siamo abituati a lavorare su Skype, quindi online. Poi, diciamo, la nostra ricerca in parte è basata sull'analisi dati, quindi si può fare a casa tramite il proprio computer. È anche vero che però nel nostro gruppo noi ci occupiamo di misure, di proprietà, di materiali che mimano materiali presenti su altri pianeti. Quindi l'impossibilità di venire all'università, di fare misure, è chiaramente stato un grosso limite, ci ha bloccato in quella parte di lavoro che in realtà è molto importante per poi analizzare i dati radar e quindi interpretare correttamente il dato radar.